Benvenuti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti al quarto incontro di questo ciclo di incontri in preparazione del China Study Tour e comunque aperti a tutti gli interessati su temi di cultura ed economia cinese. Siamo ancora nella fase della cultura e della lingua. Oggi abbiamo un intervento di Carlotta Spalvoli che è la nostra docente cinese e che è anche docente, speriamo solo a prestito, all'Università di Cork in Irlanda. Il tema annunciato è contesti sociali a confronto politica, religione, business. Il taglio sarà comunque quello di una docente di linguistica, quindi parleremo anche di lingua, di strategia, di comunicazione, di diversi sensi del dovere, ma non vi anticipo quello che arriverà. Ecco, è un gran piacere per noi includere in questo ciclo di interventi anche una docente che ha costituito il primo nucleo del cinese qui. Quindi grazie a Carlotta e buon lavoro. Benissimo. Grazie a Marina. No, è troppo. Siete troppo gentili, lasciate invece cortesemente ringraziare me, perché ovviamente queste sono iniziative alle quali partecipo con grande entusiasmo, oltre a essere iniziative secondo me di grandissima utilità, per fare un pochino da ponte fra la nostra attività accademica e poi, come dire, il mondo reale, come si diceva, un tempo. Quindi, come al solito, ringraziamo la Fondazione Italia-Cina, si chiama così, il progetto Italia-Cina. Scusate, sono dieci anni che sbaglio il nome, penso che lo sbaglierò, anche, mi perdonate. E ovviamente la professoressa Parolini, che ha contribuito veramente molto diffusamente a questo progetto. Allora, benissimo. Allora, il titolo che mi sono dato è un titolo molto semplice, ed è, diciamo, l'ambito di ricerca sul quale mi sto dedicando a pieno da diverso tempo. E credo che sia un ambito molto fecondo. Quindi, cominciamo, magari, delineando molto rapidamente, prego, prego, fate con comodo, delineando molto rapidamente i contenuti che ho ritenuto opportuno presentare. Innanzitutto ci sarà una parte, mi dovete perdonare, specialmente gli amici di Economia, ma ci sarà una parte davvero di filosofia del linguaggio, potremmo dire, quindi davvero molto teorica. Però, secondo me, con degli addentellati molto concreti, poi, nella pratica economica. In questa parte io chiarirò come viene inteso il dovere morale e come viene intesa la necessità pratica, in chiave cross-linguistica. Quindi salteremo, proprio a pie pari, in una descrizione sommaria, ma spero comunque ispirativa, dedicata al sistema di valori tradizionale del mondo orientale. Questa volta vedete che non è cross-linguistico, è mondo orientale. Non è cinese, non è qualificato in quanto cinese, perché la prima cosa che dobbiamo tenere a mente è che quando si parla di Cina, in realtà si parla di un complesso di valori e tradizioni che hanno informato e che informano tuttora, davvero, tutta l'Asia sudorientale. Faremo una brevissima panoramica dedicata al diritto in Cina e in questo caso sono orgogliosa di anticiparvi che attingerò a piene mani da un lavoro di laurea discusso qui, una tesi di laurea discusso qui nel 2013, questo anche per farvi vedere, insomma, che cosa facciamo, che cosa produciamo qui. E infine concluderemo con qualche esempio concreto. Allora, innanzitutto, quando parliamo di necessità, di potere, di desiderio, forse non lo sappiamo, però facciamo un'operazione specifica, mi sentite o c'è un rimbombo? Mi sembra? No, mi sentite bene. Vi dicevo, facciamo un'operazione specifica che in linguistica parlano, che in linguistica descrivono come, appunto, descrizione dell'irrealis. I cinesi la descrivono, almeno dal 1942, come la descrizione di ciò che non è ancora avvenuto. Quindi, quando noi parliamo di qualcosa che non fa parte davvero della realtà concreta, in realtà ci muoviamo in questi tre domini. Queste tre sono nozioni universali, tuttavia sono anche nozioni interdefinibili. Cioè, quando io parlo, posso esprimere una necessità facendo ricorso, semplicemente, al concetto di potere, e viceversa. Quindi, poter fare X significa non dovere non fare X, cioè non essere oggetto di una proibizione. Allo stesso modo, dover fare X significa che non hai la possibilità di una scelta. In ogni caso, questi concetti normativi li possiamo, appunto, esprimere facendo ricorso a dovere da una parte, o a potere dall'altra. E poi c'è il desiderio. Il desiderio, ovviamente, è quella zona grigia nella quale questi due domini si sovrappongono. Cioè, vorrei fare qualcosa, significa sarebbe bello poter fare qualcosa, e sarebbe bello non dover non fare quel qualcosa. Ecco, la cosa importante, sempre che emerge dall'analisi linguistica, è che, in realtà, ciascuno di questi tre domini caratteristica, diciamo, in linguistica, the narratives, la narrativa, la semantica, di un discorso specifico. In politica, ovviamente, potere. Yes, we can, podemos, eccetera, eccetera. Se noi andiamo ad analizzare, appunto, in politica, e a tutte le latitudini, vedremo che l'idea di potere ricorre spesso. Ovviamente, la nozione di diritto è più interessata alla necessità, quindi al dovere. E, infine, il volere, lo sappiamo tutti, è praticamente, come dire, la luce che ispira ogni campagna di buon marketing. Cioè, individuare un desiderio, creare un desiderio, eccetera, eccetera. A dire il vero, però, se andiamo a guardare un pochino più in profondità, vediamo che, per esempio, nell'ambito, nel dominio politico, c'è la fase del potere, ma c'è poi la fase del dovere. Allora, quello che diciamo è che, quello che si dice, in linguistica, appunto, legata alla modalità, è che si parla di potere quando vogliamo creare, quando l'obiettivo è creare un elettorato attorno a principi morali. Cioè, quando io dico yes, we can, piuttosto che podemos, che cosa sto tentando di fare? Sto tentando di creare una base elettorale, una base di consenso, e normalmente, per ottenere questo consenso, io faccio leva su che cosa? Su dei principi morali, su dei diritti essenziali, che voglio estendere a ciascuno. Tuttavia, c'è poi un secondo momento dove in politica, normalmente, si passa dal potere al dovere. E questo è il momento in cui, in politica, si è già, come dire, ottenuto, si è già, in qualche maniera, vinto il potere, e a quel punto bisogna convincere gli elettori a fare qualcosa che magari non vogliono fare. E a questo punto, sempre in chiave cross-linguistica, diciamo che la leva che sembra essere più efficace è l'idea di inevitabilità. Cioè, si comincia a dire, ok ragazzi, vi ho detto che potevamo, siamo arrivati a questo punto, adesso però è inevitabile fare qualcos'altro. Questo fa parte appunto della dinamica consueta del discorso politico, ribadisco, in chiave globale. Se queste sono le dinamiche in chiave globale, che appunto, come vedete dagli ultimi due punti della mia slide, vedete scritto dovere morale e sotto, vedete scritto necessità pratica. Che cosa vi sto suggerendo? Sto suggerendo appunto che a livello appunto della creazione del consenso, nella nostra cultura esiste un momento nel quale si dà particolare enfasi ai principi morali ed esiste poi un secondo momento dove si dà particolare enfasi alla necessità pratica. Dicendo questo, quello che vi sto suggerendo è che praticamente l'idea di dovere è in qualche modo distribuita fra due poli, appunto il polo morale e il polo pratico. Ora, credo che ciascuno di noi sia consapevole senza grandi voglio dire riflessioni preliminari, penso che ciascuno di noi sia consapevole del fatto che nella nostra cultura l'idea di dovere che ha più forza nel convincere qualcuno è senz'altro quella legata al dovere morale. È il dovere morale quello che ci inchioda spesso a delle decisioni, a delle scelte. Tuttavia, se ci spostiamo finalmente verso oriente, ci accorgiamo che invece verso oriente il dovere morale non è poi così prioritario rispetto alla necessità pratica. Anzi, se io devo convincere qualcuno a fare qualcosa, gli argomenti più efficaci in genere li attingo semplicemente dicendo che la pratica vuole questo piuttosto che non dicendo devi fare questo perché è giusto così. Ok? E in effetti se poi zoomiamo ancora un po' con più attenzione e questa volta ci concentriamo specificamente nella lingua cinese vediamo che nella cultura cinese esistono due gruppi di parole, due parole in particolare che esprimono in maniera chiarissima l'uno o l'altro fra questi due concetti. La prima è yingai che significa appunto dovere morale. Normalmente in italiano la traduciamo con dobbiamo dovete. In realtà spesso ci dicono quando insegniamo la lingua o studiamo la lingua che yingai corrisponde ha un condizionale dovresti e capite anche voi che dovresti è abbastanza attenuata come forma e in ogni caso sappiamo che questo dovere diventa davvero uno spauracchio nel momento in cui sia preceduto da una negazione perché a quel punto che cosa succede? A quel punto produciamo automaticamente una proibizione. Quindi questa è l'area del dovere morale. Poi sempre guardando la lingua cinese vediamo che esiste un'altra parola questa parola è una parola molto molto utilizzata in Cina e molto difficile da far acquisire ai nostri studenti di lingua cinese e si pronuncia pi e appunto allude al dovere procedurale. Un'ottima traduzione italiana sarebbe appunto bisogna occorre è necessario questa forma è normalmente interpretata come più vincolante nella forma affermativa in sostanza se io vi dico bisogna fare così è sicuramente un'indicazione più forte che non se io vi dica devi fare così ok? Questa è l'idea questo in cinese quanto meno in cinese c'è questo tipo di percezione allo stesso tempo possiamo trovare qualcosa di simile anche in inglese dopo guarderemo la tabella che ho messo a disposizione la parte inferiore della slide comunque sia vi dicevo in Cina di questa differenza fra dovere morale pratica concreta fattuale pratica procedurale eccetera eccetera parlano da molti anni il primo a fare il focus diciamo su questo aspetto è stato un linguista del Li Jin Si nel 24 poi Li Cisani nel 42 Gaomen Kai nel 48 poi a un certo punto per qualche strano motivo dal 49 in poi hanno lasciato perdere questo tipo di argomenti nel 49 sappiamo bene che c'è stata la liberazione della Cina e quindi l'instaurarsi di un potere diciamo connotato in maniera molto diversa da quanto accadesse prima e in ogni caso questi pensatori hanno questi linguisti hanno spiegato molto chiaramente che la necessità morale è una necessità fondata su sentimento e ragione è proprio sense and sensibility praticamente è lo stesso tipo di ragionamento e appunto dettata da motivi morali mentre ci dicono che la necessità fattuale è una necessità basata sulle cose quello lo vedete dopo fattuale ed è ineludibile cioè non puoi non you cannot but cannot but è la formula che si utilizza di più allora perché io vi ho messo le date nelle quali questi concetti vengono investigati all'interno della linguistica cinese l'ho fatto perché per darvi la dimensione dell'anticipazione che quel tipo di speculazione linguistica ha praticamente costituito in quanto questo tipo di analisi è un'analisi che si fa attualmente in linguistica come in filosofia del linguaggio si parla molto di goal oriented e moral duty i cinesi c'erano arrivati molto prima e c'erano arrivati molto prima per motivi che adesso vedremo e che ovviamente hanno a che vedere con il loro sistema di valori ma prima di procedere molto rapidamente guardiamo questa tabella allora vedete in questa tabella parlo di prominenza deontica o anancastica mi permetto di parlare di queste parole anche se sembrano molto astruse perché sono parole che in realtà fanno proprio parte del nostro orizzonte culturale occidentale buonasera buonasera il proletto reccedendo che si ha registrato qualcosa si molto volentieri anzi ci fa piacere si il meglio l'avete già perso siamo in ritardo perché non sapevamo che era qui non si preoccupi non si preoccupi allora perfetto benissimo sarà mia cura passare l'informazione certamente anche molto bene molto bene ovviamente voi direte che il meglio l'ho già detto mi raccomando ok allora stavo dicendo che mi sto permettendo insomma di mettere qualche parola un po' astruse semplicemente perché sono parole che davvero sono molto forti nella nostra tradizione la prima è deontico dovere deontico lo sappiamo tutti insomma vuol dire dovere morale non credo di dover spiegare molto in più anancastico è appunto il versante della necessità pratica mi come dire mi preme dire due parole su questo anancastico cosa vuol dire ananchè da dove deriva praticamente nella nella Grecia classica una delle nozioni fondamentali era appunto quella legata al mito di ananche ananche in sostanza rappresenta il fato era la madre delle parche quindi di coloro che praticamente tagliano il filo lungo il quale si snoda la nostra esistenza in sostanza quello che mi preme sottolineare fin da ora è che questa nozione di necessità pratica inevitabilità eccetera eccetera possiamo pensarla come l'incarnazione moderna dell'idea di fatto del mondo antico con l'idea di fatto del molto antico che teneva le persone era un gioco era una corda che teneva appunto le persone legate ecco questo stesso tipo di semantica lo troviamo sicuramente nel mondo antico in Cina e sicuramente anche nel mondo tecnologico che noi stiamo in qualche modo vivendo per per quanto riguarda il linguaggio appunto queste concezioni a tutte le latitudini capiamo che questi concetti non sono poi così astrusi perché queste idee sono lessicalizzate in parole particolari quindi così come questi concetti sono concetti primitivi concetti fondamentali allo stesso modo noi riusciamo in tutte le lingue a trovare parole che sono specializzate verso l'uno o l'altro polo in inglese must e should per quanto riguarda il dovere deontico e have to e need to per quanto riguarda il dovere anancastico in italiano l'abbiamo detto dovere per il deontico sia indicativo che condizionale e soprattutto essere necessario e bisognare andiamo avanti ecco uno dei fenomeni che si vedono a livello cross linguistico e che riguardano appunto praticamente tutte le lingue è il fatto che le parole specializzate nell'esprimere la necessità pratica hanno la caratteristica che una volta negate ci dicono che siamo liberi da un obbligo questa libertà da un obbligo la chiamiamo esenzione e questo accade appunto come in inglese con don't have to prego benissimo non so cosa aspettarvi la prossima è bellissimo ci piace molto questa cosa andiamo avanti stavo dicendo che stavo dicendo che vi prego ancora un pochino di attenzione poi il discorso si come dire si le parole specializzate nell'espressione del dovere pratico della necessità pratica una volta negate producono un'esenzione non sei obbligato a fare x le parole che sono invece specializzate nell'esprimere un dovere morale una volta negate esprimono una proibizione questo in inglese è chiarissimo perché quando io dico do not have to quello che sto dicendo è sei libero di non mentre se dico must not quello che ti sto dicendo è non puoi non va bene in italiano così come credo nella maggior parte delle lingue romanze in realtà le cose non stanno così in italiano c'è come dire una zona grigia nella quale io posso esprimere una proibizione con le stesse parole con le quale esprimo un'esenzione non è una cosa così banale perché siamo abituati anziché sentirci dire prego puoi non far così in realtà ci sentiamo a dire non devi fare così questo che vi cito sotto è un esempio di cui si parla in filosofia del diritto in Italia un esempio tipico gli studenti di filosofia non devono sostenere l'esame di filosofia del linguaggio immaginate un contesto nel quale in quanto studenti di filosofia voi non dovete fare un certo esame semplicemente perché non è necessario a quel punto che cosa succede succede che questo tipo di libertà da un obbligo molto probabilmente vi sarà espressa appunto come se fosse una proibizione cioè anziché dirvi hai la facoltà di non ti viene detto non puoi ebbene scusate ho perso qualcosa ok cosa succede in Cina come stanno le cose in Cina rispetto a tutto quello che vi ho detto una cosa ve l'ho già anticipata ve la ricordate cosa vi ho detto vi ho detto che laddove qui per convincere qualcuno a fare qualcosa gli devo parlare di giustizia nell'orizzonte del pensiero tradizionale orientale per convincere qualcuno a parlare di qualcosa non gli parlo di giustizia necessariamente ma magari gli parlo di necessità pratica di realtà di stato delle cose e quindi andiamo un attimo a vedere appunto come stanno qual è il sistema di valori tradizionali della Cina antica in questa immagine vedete insomma questa è semplicemente una cartina della Cina che mi sembra sempre giusto sempre giusto come dire premettere a qualsiasi discorso sulla Cina per ricordarci la dimensione continentale di questo paese e la come dire eterogeneità climatica etnica eccetera eccetera di questa cultura comunque andiamo al punto cominciamo dalla cosa più importante cominciamo dalla nozione di centro noi tutti sappiamo che Cina si dice John Guo cosa vuol dire? vuol dire regno guo del centro ok allora ovviamente l'idea di centro potrebbe essere un'idea che ha una sua motivazione geografica cioè noi sappiamo che c'è una zona primigenia del come dire di creazione della cultura cinese che è più o meno quella zona marroncina la vedete a quadrettini però come vedete non è esattamente il centro anzi possiamo dire che siamo ben sbilanciati nel nord quindi è evidente che quel centro ha a che vedere con qualcosa di diverso scusate se ho banalizzato questa cosa allora allora che cosa si intende per centro? in realtà l'idea di centro ha a che vedere con il punto di perfetto equilibrio ovviamente è qualcosa di analogo a ci sono molti punti in comune con il pensiero dei latini quindi l'idea che in media c'è diciamo la posizione in assoluto più come dire più corretta in tutte le situazioni sicuramente è quella dove vi è maggiore equilibrio e questo è una delle idee fondative proprio del pensiero cinese di risparmio tutto il resto no una cosa importante per questo c'è questa lunga citazione di Maurizio Scarpari che è un importante filologo sinologo appunto di cinese classico forse l'hai avuta anche tu no comunque Maurizio Scarpari ci ricorda come primo punto che questo centro in realtà dal punto di vista della cultura cinese non è un centro statico fisso ma è un centro che si muove cioè il punto di equilibrio cambia cambia con il cambiare della situazione e qui già forse ci spostiamo un pochino dall'orizzonte latino dall'idea di equilibrio del mondo antico in occidente un altro un altro come dire aspetto importante che ha più una valenza politica è che in realtà questo centro questo equilibrio è responsabilità di qualcuno di preciso e questo qualcuno di preciso è il figlio del cielo il figlio del cielo è di fatto colui che esercita il potere sulla comunità degli uomini potremmo dire tranquillamente in alcuni momenti della storia cinese l'imperatore e qual è la mediazione che questo figlio del cielo effettua è quella appunto di portare in terra l'armonia proveniente dal cielo e ovviamente non vi sarà sfuggito che io ho parlato di armonia e non ho parlato di giustizia quello che c'è sotto il cielo si chiama Tianxia è un concetto che faremo bene a ricordare anche se ci muoviamo nel territorio dell'economia e del diritto perché in effetti l'idea di Tianxia è l'idea che sta ispirando nella Cina contemporanea una nuova ridefinizione dell'idea di globalizzazione e di imperialismo cioè il Tianxia è praticamente quello che c'è sotto il creato diremmo in termini diciamo cristianeggianti il creato è quello che è sotto il cielo ed è quindi l'idea di globalizzazione propria della cultura cinese contemporanea che la sta ridefinendo in termini politici e in termini di ruolo geopolitico specifico della Cina altri concetti fondamentali che attengono alle virtù di questo figlio del cielo che è colui che è in grado di assicurare in terra una un'armonia che in realtà proviene da qualcosa proviene dal cielo e gli strumenti che lui utilizza sono sicuramente la cultura e i riti i riti ovviamente non credo che questo vi sia sfuggito i riti sono qualcosa di fermamente legato all'idea di procedura cioè la procedura se noi ci pensiamo bene possiamo immaginarla come una ritualizzazione in un contesto secolare laico eccetera eccetera che mira un risultato eccetera 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 ma è evidente che fra rito e procedura c'è un legame piuttosto stretto quindi la cultura che arricchisce e il rito la procedura potremmo dire che pone dei limiti cioè che assegna ciascuno al proprio posto qual è il proprio posto il proprio posto è definito da quei cinque dalle cinque relazioni che trovate dettagliate che nella cultura confuciana chiamano le cinque relazioni cardinali le devo sempre guardare ovviamente comunque sovrano e ministro quando dico sovrano potrei dire imperatore ma potrei dire anche capo e sottoposto cioè c'è lo stesso tipo di ragionamento lo stesso tipo di relazione e quindi marito e moglie padre e figlio fratello maggiore fratello minore e infine ovviamente gli amici quella degli amici è l'unica relazione paritaria come vedete tutte le altre prevedono una relazione gerarchica ed è chiaro che la stessa persona in contesti diversi si troverà a esercitare l'una o l'altra delle posizioni la posizione diciamo di sovrintendenza oppure quella di subordinazione infine e questa è la cosa assolutamente più importante tutto questo se noi lo ricostruiamo un attimo bene e magari lo ricomponiamo alla luce di qualche altro valore ci porta a capire una cosa non a capire una cosa a capire i fondamenti insomma di un'affermazione che viene fatta molto spesso in ambito di filosofia comparativa i filosofi comparativi che cosa ci dicono ci dicono che nel mondo giudeo cristiano il paradigma fondamentale è la lotta fra bene e male ovviamente noi possiamo estendere questo tipo di affermazione per esempio anche a tutta al mondo musulmano al mondo islamico eccetera insomma al mondo che ha preso forma diciamo nell'alveo delle grandi religioni monoteiste e quindi bene e male sono praticamente i criteri dal quale ogni altro criterio poi trova legittimazione nel mondo orientale ci dicono non è così il problema non è il bene e il male ma il problema è pensiamoci rispetto a quello che abbiamo detto prima l'armonia e la mancanza di armonia l'armonia e il disordine ovviamente l'abbiamo detto il nostro figlio del cielo implementa in terra l'ordine sapere muoversi sapersi muovere nei limiti delle cinque virtù cardinali consente appunto a questo ordine di incarnarsi manifestarsi distribuirsi lungo una rete di relazioni che copre tutto il creato tutti siamo in una misura o nell'altra in almeno una di quelle relazioni ovviamente io sto un po' semplificando perché esiste il confucionesimo ma esistono anche altre tradizioni di pensiero all'interno del pensiero cinese come quella taoista che invece potremmo sempre generalizzando e semplificando magari etichettare con una voce un po' più anarchica sicuramente meno normativa però anche se noi andiamo a guardare all'interno di quelle tradizioni quello che vedremo è che parliamo di ordine o disordine armonia o caos inclusione o esclusione e allora forse queste indicazioni queste come dire queste sottolineature ci consentono di capire perché in Cina alla fine se devo convincere qualcuno a fare qualcosa forse mi conviene orientarlo al dovere pratico piuttosto che a quello morale mentre da noi si fa una manipolazione spesso in genere di senso contrario comunque giusto per chiudere questa parte abbiamo detto che esiste l'armonia che è l'obiettivo il bene poi esiste l'umanità che è il principio attuatore umanità è proprio intesa in una maniera molto simile all'umanità slatina la benevolenza al porsi in maniera appunto come dire rispettosa della sfera di sentimenti del nostro interlocutore poi abbiamo i riti che sono il metodo nel quale questo tipo di armonia può essere raggiunta o disattesa nel momento in cui i riti non vengono attesi il risultato sarà la giustizia allora qua vedete ci stiamo un pochino avvicinando ai nostri argomenti sarà la giustizia e il bene comune cioè quello che avremo in sorte come comunità di uomini sarà la prosperità il lì che è l'utilità comune il bene comune qualcosa del quale siamo partecipi tutti in diversa misura ma comunque tutti questo è diciamo l'orizzonte ideale nel quale si muove appunto l'azione morale del che caratterizza il mondo il mondo dell'estremo oriente adesso facciamo ancora una rapida carrellata sempre per sommi capi prima poi di praticamente in qualche maniera concludere con degli esempi vi dicevo allora innanzitutto abbiamo forse necessità di capire qual è diciamo la fonte normativa che come dire che guida che orienta i rapporti civili le leggi penali eccetera eccetera in Cina ecco la cosa importante la cosa davvero più importante è che noi ci si renda conto che tutto sommato occidente e impero cinese impero romano potremmo dire e impero cinese quando dico impero romano indico impero romano in tutte le sue declinazioni quindi anche quella d'oriente tornando a noi dicevo impero romano e impero cinese in realtà hanno avuto per molti aspetti compreso quello giuridico uno sviluppo parallelo quindi così come nella nostra tradizione a un certo punto prende forma il corpus iuris civilis che è considerato il punto di partenza diciamo più più concreto della nostra tradizione giuridica allo stesso modo avviene qualcosa di simile in periodo praticamente parallelo anche in Cina e questo la chiamiamo il periodo della formalizzazione del diritto la seconda fase che in genere si tende ad indicare e qua procediamo stiamo facendo un grande salto storico ovviamente riguarda la divisione in materie maggiori e materie minori che cosa si intende qua c'è un altro punto culturalmente interessante dal punto di vista del pensiero tradizionale cinese qualsiasi controversia merita di essere in qualche maniera risolta in via extra giu extra insomma avete capito cioè in una in una sede che non è quella delle preture che non è quella dei giudici ma che è una sede diciamo amichevole extra giudiziale esattamente e questo perché se siamo in una cultura nella quale l'armonia è considerato il principio fondativo è evidente che come si dice denunciare qualcuno creare i presupposti per un'azione legale non depone particolarmente a favore del denunciante va bene cioè l'atto stesso di denunciare comunque è considerato non è considerato con l'occhio benevolo che se è un accidente quando si guarda qualcuno che difende il proprio diritto è considerato come diciamo un piccolo attentato all'armonia della comunità e quindi nel periodo Ming appunto c'è questa tendenza a come dire a convogliare le controverse che non superano un certo tipo di entità in una soluzione forzatamente amichevole per poi consentire diciamo l'appello a una vera istituzione di tipo legale solamente per casi di vera rilevanza penale insomma quindi omicidio eccetera eccetera ovviamente questo tipo di ci dice Dora Musini che è appunto la laureanda dalla cui tesi di laurea ho tratto queste piccole spigolature ci dice appunto che che questo tipo di divisione chiaramente non è stata senza conseguenza anche nel lungo termine nel senso che ha rafforzato l'elite locale è chiaro che colui che è deputato a far da pacere fra fazioni in lotta viene caricato di un potere che magari di per sé non avrebbe e quindi questo diciamo ha avuto anche un altro tipo di conseguenza che riguarda il ruolo degli intellettuali nella Cina imperiale nel senso che spesso coloro che facevano appunto da paceri erano i funzionari erano i cosiddetti mandarini mandarini in senso stretto arriveranno dopo comunque erano quelli che noi in occidente oggi chiameremmo mandarini i burocrati che erano per prima cosa degli intellettuali che appunto si trovano a ricoprire anche una funzione giuridica che non era che non sarebbe prettamente parte delle loro prerogative andiamo avanti sempre per grandi per grandi salti ecco siamo adesso nel periodo Qing e questo è il motto che praticamente cadenza l'applicazione della legge nel periodo Qing come vedete è un periodo molto lungo praticamente l'ultima fase del potere dinastico in Cina che appunto sappiamo che nel 1911 c'è la rivoluzione repubblicana e quindi cade il potere imperiale e di nuovo ritroviamo delle cose di cui abbiamo parlato anche se in maniera un po' diversa agli albori del pensiero cinese perché siamo in questo Qing che è la sfera i valori principali sono Qing Qing è il sense di cui avevo parlato nella prima slide vi ricordate quando vi ho detto che i linguisti cinesi degli anni 40 dicono oh noi usiamo due modi per dire dovere uno è legato al cuore e alla mente il cuore di cui parlano è questo Qing che significa sfera dei sentimenti sensibility e l'altro invece è legato alla mente al razzocinio e questa è la sfera del Li questo Li lo vedete il carattere in rosso che vedete al centro della seconda riga il Li sarebbero le venature della Giada quindi sarebbe quel fiume sotterraneo della ragione che per essere portato in superficie per essere portato alla vista necessita un certo tipo di lavoro dell'intelletto ok questo è Li va bene quindi questo è il razziocinio e poi infine c'è la legge Fa sulla quale non mi sono concentrata nelle prime slides ma che è una realtà dei principi filosofici più importanti di tutto il pensiero cinese comunque la legge come va applicata la legge deve essere conforme ai sentimenti conforme alla ragione e ovviamente conforme al dettato legislativo in senso stretto quindi capite che c'è sempre potremmo dire che in questo caso ci sia molto evidente una grande una grande come dire enfasi su quello che noi chiameremo granosalis sul buon senso ma questo buon senso ha un obiettivo preciso cioè quello di essere conforme rispettare il senso il buon senso il senso comune il senso del decoro il senso di ciò che è appropriato eccetera eccetera un altro periodo importante sotto il profilo della produzione legislativa sicuramente si ha con il 1949 qui ho fatto un salto abbiamo parlato prima della fine della praticamente della fine del periodo dinastico la fondazione della prima repubblica 40 anni in cui la Cina in cui in Cina si affrontano diversi problemi come dire di una vastità epocale ovviamente i rapporti con i protettorati colonialismo l'invasione dei giapponesi la seconda guerra mondiale insomma e la guerra civile finito tutto questo nel 49 c'è la liberazione la liberazione significa appunto che i giapponesi vengono finalmente buttati fuori dal paese i nazionalisti vanno a Formosa e nasce la nuova Cina e nel momento in cui nasce la nuova Cina evidentemente la prima il primo sforzo uno dei primi sforzi che ci si dà è quello di creare un apparato di leggi perché come abbiamo visto nella diciamo nel sistema tradizionale precedente al 49 non c'era un codice come noi lo pensiamo c'era come vi ho detto una classe di mandarini di funzionare eccetera eccetera che era adibita a redimere le controversie locali c'era poi la possibilità di appellarsi alla corte imperiale per reati di un'entità maggiore in genere per reati di natura penale ma in tutto questo non c'era un vero complesso di norme ad hoc per ciascun tipo di esercizio del diritto e invece queste norme cominciano ad essere messe per iscritto appunto a partire dagli anni 50 ovviamente la prima cosa che fanno è si danno una costituzione ma questa è un'altra cosa ancora e di questo passo diciamo che in genere i tre momenti considerati importanti sono la rivoluzione del 49 la politica di apertura di Deng Xiaoping nella quale appunto si comincia piano piano ad affrancarsi anche dal modello sovietico che nel frattempo si è rimposto la revisione della costituzione e infine finalmente adesso stiamo entrando fra pochi minuti entreremo negli esempi pratici e infine quando entra in scena Yang Xiaoming finalmente si comincia a profilare si cominciano a vedere diciamo le strutture di questo nuovo stato di diritto che la Cina piano piano comincia a come dire a delineare c'è un nuovo codice di procedura penale c'è ovviamente questo nuovo codice di procedura penale e la nuova legge dei contratti legati alla come dire alla presenza di sempre maggiori joint venture eccetera eccetera sono legati al nuovo sistema socialista di mercato e infine c'è l'entrata nel VTO che praticamente poi porta anche a una nuova revisione della costituzione nel 2004 quindi questi sono più o meno i momenti fondamentali adesso guardiamo un attimo gli articoli che sono considerati i due emendamenti abbiamo detto che c'è stata una prima costituzione nel 49 e poi c'è una grande emendamento una grande revisione in particolare su due emendamenti nel 1982 e questi due emendamenti in particolare è la la nuova definizione di di quale sia la dimensione di questo paese socialista lo vedete nell'articolo 5 non che non fosse citato nelle negli articoli precedenti però viene viene in qualche maniera sottolineato che questo paese socialista comunque sottostà a un corpus di leggi cosa che evidentemente non era chiarissima prima e infine e questa è la parte in rosso che vedrete ogni cittadino ha diritto all'esercizio appunto dei diritti quindi a facoltà dell'esercizio dei diritti e allo stesso tempo deve implementare i doveri prescritti dalla legge e dalla costituzione allora ovviamente a noi interesserà vedere come hanno tradotto questo emendamento penso che possa essere di un qualche interesse e allora guardiamo come è stato tradotto questo emendamento e vedremo che laddove in inglese troviamo must che come vi dicevo fa riferimento al dovere inteso come deontico eccetera eccetera in cinese troviamo invece questo bis questo bisogna e anche in italiano se noi mettessimo bisogna al posto di deve in una occorre o è necessario io penso che vi sia chiaro che se noi utilizzassimo occorre bisogna o è necessario in un articolo costituzionale di questa importanza secondo me suonerebbe un pochino strano e in effetti in italiano la tradizione più come dire più accettata parla appunto di deve implementare gli obblighi relativi al dettato legislativo e costituzionale vedete quindi in questo è un esempio dove in traduzione italiana spesso c'è uno shift modale dal dovere inteso come dovere morale e dovere inteso come necessità pratica in cinese potremmo ragionare ancora su questo punto ma penso che fosse una sola cosa è diverso dire deve o bisogna secondo voi vedete la differenza se non la vedete forse vale la pena che io faccia ancora qualche piccola commento è evidente che questo dovere pratico che in semantica contemporanea chiamano goal oriented quindi dovere orientato all'obiettivo è un dovere appunto orientato all'obiettivo e soprattutto è un dovere condizionale cioè è un dovere che si pone come condizione necessaria per raggiungimento di qualcosa quindi capite che l'esercizio la vera facoltà all'esercizio del diritto nel dettato costituzionale è subordinata se tu utilizzi il verbo bisogna è subordinata al fatto che tu implementi le norme del dettato costituzionale mi sono spiegata? penso che sia abbastanza chiaro quindi non è un diritto naturale non è un diritto legato a una condizione antropologica dell'essere uomo e quindi a tutti i principi che questo comporta è un diritto legato all'ottempeo all'ottempeo di un obbligo quindi condizionale ma questo in teoria ci dovrebbe far pensare che tutto sommato il modo di pensare i rapporti di diritto dovere in Cina sia sempre a detrimento dell'utente al detrimento del cittadino a detrimento eccetera del consumatore eccetera in realtà fra gli obiettivi di questo intervento vi è quello di dimostrare che spesso non è affatto così e che anzi forse siamo noi italiani che possiamo talvolta come dire rinunciare senza accorgertene ad alcune nostre prelogative molto velocemente volevo farvi vedere qualche esempio vedete il primo dobbiamo rispettare la legge bisogna rispettare la legge sono due casi sono due frasi che ho tratti da corpora in cinese effettivamente vedete come sia bisogna che dovere può essere utilizzato in un contesto appunto legato al un contesto deontico come rispetto della legge quindi nella forma affermativa queste frasi il bisogna o il dovere in realtà sono spesso interscambiabili non ci sono differenze di sostanza particolari certo io rilevo una differenza ve la sottolineo se utilizzo bisogna occorre da qualche parte c'è un obiettivo da qualche parte c'è una condizione ma questo diciamo potreste considerarlo a livello di una sofisticheria diverso è come vi accennavo prima il caso in cui io aggiungo una negazione a questo punto se io aggiungo la negazione po che è appunto la negazione del cinese di fronte da yingai come vi dicevo in inglese diventa must not la negazione segue il verbo di necessità se lo metto davanti al verbo che significa occorrere quello che io ottengo è un'esenzione adesso guardiamo un po' cosa succede nei repertori come Microsoft come le traduzioni del sistema operativo Microsoft dove una stessa frase in inglese viene tradotta in italiano piuttosto che in cinese guardiamo molto rapidamente questi esempi nei quali per esempio la frase di partenza era your credentials are needed in italiano vedete la traduzione la glossa letterale sarebbe due credenziali essere necessarie ok non c'è nessun tipo di obbligo per me utente andiamo a vedere il cinese si yao ti gong nida eccetera eccetera e anche qui essere necessario fornire le tue credenziali andiamo a guardare l'italiano devi specificare le tue credenziali vedete qui c'è uno shift cioè prima vi dicevo nel dettato costituzionale trovano più naturale fare ricorso a un verbo anoncastico quindi dovere procedurale piuttosto che a un verbo morale e quindi ci dicono tutti i cittadini sono qualificati all'esercizio del diritto ma simultaneamente bisogna che abbiano ottemperato al dettato costituzionale e vi dico questo è un po' strano no? noi diremmo la stessa cosa in un altro modo se poi andiamo invece nell'ambito procedurale tecnico in più lingue vediamo nella nostra lingua la tendenza e queste sono citazioni dal portale microsoft non sono mie ovviamente cioè sono citazioni reali vediamo che l'italiano invece tende a essere sempre carico deonticamente la stessa cosa la vediamo nella citazione successiva you don't need to enter a password eccetera eccetera l'esempio diciamo che mi piace di più fare è questo qui dove please sign by the date inglese abbiamo una richiesta cortese una polite request penso si possa dire in cinese pure in italiano la firma deve essere apposta entrano la data ips capite? questo io vorrei sottolineare in chiusura di questo intervento le culture possono diciamo sono paradigmi diversi abbiamo visto se facciamo diciamo la comparazione occidente oriente il paradigma diciamo più macro macroscopicamente diverso riguarda l'idea di bene e male armonia disarmonia se guardiamo la stessa cosa nel versante della nozione di necessità capiamo che da noi è più importante che da noi si convince con i principi mentre da loro si convince con la necessità pratica se però guardiamo alla vita di tutti i giorni alla nostra interazione con per esempio con le regole con la tecnica eccetera eccetera capiamo che la nostra lingua dove questi due poli non sono lessicalizzati in maniera chiara la nostra lingua appunto dove non ci sono parole veramente specializzate per l'uno e per l'altro consente delle manipolazioni che tutto sommato in Cina non sono ammissibili dato che se devo dire che tu sei libero di fare qualcosa lo potrò dire solo e unicamente con quelle parole mentre se dovrò dire che tu non puoi fare qualcosa allo stesso modo dovrò ricorrere a una struttura precisa e qui ho concluso grazie a tutti grazie a tutti